Ma per conoscere la storia è importante anche l'iconografia. E qui sarebbe tutto un altro capitolo, io vedo solo i titoli, l'iconografia. Questa è la prima immagine di Santi Eugenio come missionario. Questa è una delle prime missioni che lui ha predicato. Un artigiano del luogo è rimasto talmente impressionato da questo missionario che ha fatto un medaglione di cos'è questo qua, non mi ricordo che materiale è, un medaglione in cui ha ritratto lui. E come lo ritrae? Col crocifisso in mano. Come facciamo noi a sapere che lui predicava col crocifisso in mano? Non è scritto da nessuna parte. Ma con questa immagine tu sai che lui predicava con il crocifisso in mano. e guarda che bello, con che foga. Questo artigiano è rimasto conquistato da questo missionario. Oppure questo è il primo sigillo del primo gruppo di missionari. È interessante vedere il sigillo di di ceralacca, no? Questa è la ceralacca rossa, quindi, con l'impronta del sigillo. Si sono fatti un sigillo. Questo sigillo parla più di tanti scritti. Questo sigillo intanto dice qual è la parola del Vangelo che vogliono vivere. Pauperes evangelizantur. Ecco il carisma. Lo si vede da un elemento così piccolo. Potevano scrivere mille cose, potevano scrivere, no? Perché hanno scritto Pauperes evangelizantur. Perché lì era il centro del Vangelo. Quello era il cuore del Vangelo per loro. E poi ci mettono la croce. Ci potevano mettere un volto della Madonna, di San Giuseppe, che ne so io. Perché hanno messo la croce? Perché, come dicono adesso le nostre regole, la croce è al centro della nostra missione. Le regole scritte nel 1982, 150 anni dopo, dicono quello che qui si vede. Al centro della missione c'è la croce. Andatevele a reggere. Costituzione numero 5. Lì sono parole. Qui le vediamo. Qui vediamo che la croce è al centro della nostra missione. Questa è un'immaginetta, un santino. Ricordo della missione, della prima missione fatta a Exeter in 1820. Questa immaginetta è importante perché mette tutti i nomi di tutti quelli che erano presenti. E ci sono i nomi dei missionari di Francia. E questi qua? E quelli di Provenza, un gruppettino piccolino. Allora tu sai che i missionari di Francia erano un grande gruppo, che erano grandi predicatori, che hanno predicato nelle parrocchie centrali della città. Questo piccolo gruppo ha predicato nelle parrocchie di periferia della città. Questo grande gruppo è sparito dopo pochi anni. Questo c'è ancora. E da uno, due, tre, quattro, cinque, sei, col superiore, le masenò, da sei sono diventate sette mila e oggi ci sono quattro mila. E la gente aveva il ricordino della missione con la preghiera sotto. Ti basta questa immaginetta perché tu ti immagini come è andata a finire quella missione. Vedi la differenza tra i due gruppi, vedi chi erano i primi, i primi compagni. Oppure ci sono queste stampe di alcune missioni predicate allora. Guarda che bello. Partono con la barca, mettono la croce sopra. Ora facevano le processioni con la croce, la grande croce. E i missionari, così, li carica sulla barca e li portano in giro per il porto. Ecco, ecco, ecco i nostri missionari, sono questi, sono questi. Oppure, questo non l'avete mai vista. Siamo a Parigi, Parigi. E qui c'è il Cardinal Ghibert con il santuario di Notre-Dame, di Notre-Marthe, santuario del Sacro Cuore Notre-Marthe, di Montmartre, scusate, di Montmartre a Parigi. L'ha fatto lui. Ma siccome lui è onoblato, a chi lo offre? Al suo fondatore, eccolo qua. Che ha accanto il suo primo compagno. Già queste due immagini, no, di questo cardinale che offre a Sant'Eugenio il suo santuario. Sant'Eugenio era già morto e sepolto? È significativo. Perché questo ci dice il rapporto che c'era fra di loro. E come lui, pur essendo un grande cardinale a Parigi, si sentiva ancora figlio di questo qua, tanto che si fa ritrarre offrendo al suo papà il santuario. Oppure in questa immagine, bellissima, non c'è più. Purtroppo è rovinato questo fresco. Eccolo qua, Sant'Eugenio. Vescova di Marsiglia. E dietro chi c'è? Tutti gli istituti che lui ha chiamato a Marsiglia. C'è un rappresentante per ogni istituto. Li ha c'erano associazioni laicali. Le figlie della Carità, questo è Timon David, queste sono le suore, non so che cose, i cappuccini, i domenicani, questo è un oblato, è un oblato. Ecco, ecco. Già questa immagine ti dice che era veramente un uomo di chiesa, che nella sua diocesi ha restaurato, era una diocesi disfatta dalla rivoluzione, ha riportato tutti gli ordini religiosi uno dopo l'altro. Basta un'immagine così per parlare del carisma, come apertura, come... Basta con l'iconografia. Solo alcune idee per dire come, per elaborare, diciamo, un carisma, per elaborare una dottrina sul carisma, prima di dire, secondo me, aspetta, secondo me, vai a vedere dove ha vissuto, quali sono i documenti del tempo, della storia, vai a vedere come è stato visto dagli altri. Grazie a tutti.